Allora stagione di 2018-2019, prima intervista con il DG De Santis, il DS Gaetano Fiora ha detto di parlare con te in primis perché chiaramente è la stessa cosa parlare con il DS e con il DG, il mercato l'avete fatto insieme, insieme chiaramente all'allenatore confermato. Una prima domanda che te la faccio, ma Minieri è stato certo che sarebbe rimasto a Itri eppure c'è stato qualche disturbo? Ma no, anche perché quando ci siamo lasciati l'ultima sera della cerimonia, della festa che abbiamo fatto, ci ha dato subito la disponibilità a poter intavolare un discorso in continuità di quella che era stata la stagione dell'anno scorso e quindi siamo stati tranquilli. Poi si capisce che un allenatore che vince un campionato potrebbe pure essere appetibile sicuramente, ma se ha scelto Itri evidentemente ha scelto una società che gli possa garantire un proseguo della sua attività di allenatore con una certa tranquillità. Sì, credo anche io che debba essere questo il primo passo, restare un anno a Itri e poi giustamente se arrivano offerte importanti accettarli dopo, no? Io l'altro anno, Giorgio non lo conoscevo, l'ho apprezzato quest'anno con molta tranquillità, ha saputo guidare uno spogliatoio, ha saputo gestire, noi come Italia abbiamo dato ampia fiducia, credo che questo campionato per lui diventa importante anche in prospettiva futura, ne sono sicuro di questo, anche perché quando ci siamo parlati quest'estate mi ha espresso in modo chiaro cosa poteva desiderare per migliorare la squadra, lo abbiamo fatto, quindi al momento la palla passa a lui e ci aspettiamo il suo lavoro come l'ha sempre fatto l'anno scorso, lo farà sicuramente quest'anno. Parliamo di eccellenza rispetto al campionato di promozione che si era partito per fare un campionato, poi si è vinto, qui in eccellenza pensi che il livello tecnico si alza un po', no? Io penso che il livello tecnico si alzi sicuramente, ma c'è anche più spazio per giocare, perché sicuramente se ci troviamo di fronte a società che hanno calciatori di un livello tecnico un po' più alto, c'è anche la possibilità di poter giocare meglio il calcio e ogni calciatore che ha delle doti tecniche particolari riesce a mettersi in evidenza. Però dico che noi non partiamo per vincere, abbiamo l'obiettivo di permanere in eccellenza, poi io dico, come ho detto l'anno scorso nella prima intervista, è quel rettangolo di gioco che dirà durante il campionato quali posizioni potremmo noi assumere all'interno del campionato. Parliamo di mercato, ti aspettavi le partenze che ci sono state insieme all'Itri Calcio, oppure è previsto che alcuni giocatori vanno via per vari motivi? Colgo l'occasione per premettere una cosa, qualcuno ha interpretato male un mio intervento in un passato articolo che è stato fatto, pensando perché ho affermato che le squadre sportive non riescono a questi livelli a programmare niente se alcuni calciatori o buona parte dei calciatori non sono attaccati alla maglia, ma non per offendere chi ha scelto di andare altrove, è per me sinonimo di programmazione avere un'impianta stabile dei calciatori. Poi chi sceglie di andare oltre significa che ha trovato prospettive migliori, riesce a fare quel campionato, io dico però che bisogna essere sinceri dall'inizio fino alla fine, non può essere solo il denaro o la ricompensa, che uno può percepire, qui parliamo di ricompense, non parliamo di chissà di quali stipendi, possa convincere una persona a lasciare una società dove dopo aver vinto un campionato, io penso che uno dovrebbe lanciare la sfida e dire voglio fare l'eccellenza e voglio dimostrare che sono preparato anche per questa categoria. Non lo hanno fatto, hanno scelto di andare a giocare in altre società, io li ringrazio per quello che hanno fatto l'anno scorso, perché si sono comportati da calciatori esemplari, hanno dato l'anima, ma tantomeno noi abbiamo fatto mancare loro quello che era il nostro supporto tecnico, economico e quant'altro. Quindi si cambia, però virtù vuole che qualcuno possa esprimere qualche giudizio o può restarci male perché pensava di fare un certo tipo di discorso e quindi poi devi cambiare tutto. Tant'è vero che se oggi vediamo in questa squadra le permanenze sono talmente poco rispetto agli arrivi, però credo che siamo stati anche oculati nel mercato, scegliere con tranquillità, non farci portare dalla foca, attendere il momento giusto per verificare, ci sono dei calciatori in prova, vedremo cosa ci diranno e faremo qualche altro sacrificio per rinforzare la squadra, quindi questo è l'obiettivo. Poi, torno a ripetere, ringrazio i calciatori che sono stati con noi l'anno scorso e li faccio in bocca a loro per il nuovo campionato, quindi senza nessuna polemica, mi è piaciuto che qualcuno abbia interpretato male il mio pensiero, che era più un pensiero tecnico e non un pensiero di offesa o di lamentarmi dell'attaccamento alla palletta di un singolo soggetto, anche perché non ho fatto nomi e quindi non potrei dire che ho colpito uno o potevo colpire l'altro. Parliamo del mercato, l'hai menzionato da poco, il mercato in entrata, molto abbondante rispetto alle conferme, mi sembra che però il mercato, ricordiamo che si è fatto un mercato per una squadra che dovrà giocare in eccellenza e non in promozione, quindi c'era bisogno di qualche giocatore sicuramente con più tecnica rispetto all'anno scorso, no? Sicuramente, io credo che le indicazioni che ci ha dato l'allenatore, ecco, le scelte che abbiamo fatto rappresentano questi. Ora, il fatto di essere più tecnico rispetto, per esempio, a Marciani, questo non lo posso dire, questo mi indicherà il campo durante il campionato, però ecco, se le indicazioni date dal tecnico e noi le abbiamo in un certo senso avvallato attraverso gli acquisti che abbiamo fatto, credo che sicuramente l'allenatore avrà scelto calciatori che sicuramente hanno un tasso tecnico che possono ben figurare nel campionato d'eccellenza. Poi io mi attengo sempre a quelle che sono le disposizioni che un allenatore lancia, perché poi alla fine la responsabilità è del capo. Certo, ma facciamo un esempio. Campobasso è un giocatore che possiamo mettere alla pari di Mastogliani e Cantorovia, no? Noi abbiamo fatto una scelta, dovevamo completare il reparto, lo abbiamo fatto, abbiamo individuato in Campobasso il soggetto che poteva darci quella stabilità che c'eravamo l'anno scorso in difesa e quindi confidiamo nel suo apporto, sapendo che ha già giocato con Altobelli, quindi ha già fatto la categoria, quindi dovremmo stare abbastanza tranquilli. Che cosa adesso aspettiamo appunto il girone futuro? Perché mi pare che c'è la possibilità addirittura, non addirittura, sicuramente sarebbe interessante la conferma del Formia nel giro di eccellenza, però dobbiamo aspettare, mi sembra, questi giorni per capire a livello di ripescaggio che cosa potrà succedere. Io l'ho detto l'anno scorso, con dispiacere ho accolto la recensione del Formia, quindi non è tanto il discorso della rivalità, il discorso è avere la capacità di poter confrontarsi, affrontarsi sul campo, invogliare le persone a venire al campo nel rispetto del calcio e a noi ci fa gioco perché un derbino ci porta sicuramente consenso da ambo le parti, anche da un po' di cassa che riusciamo a fare, ma non è che ci dobbiamo arricchire con quella partita o un'altra, ma ci mettono la consiglia di affrontare agonisticamente anche nei confronti delle altre squadre un certo tipo di discorso tecnico, io dico sempre tecnico, il Formia è una squadra abbasonata, io l'ho vista qua da ragazzino quando faceva la Serie D e quindi la C salerava su questo campo, quindi io devo dire che è un peccato vedere una società come il Formia ancora aspettare il ripescaggio per l'eccellenza, per me poteva aspettare di diritto visto che ci sono state rinunce e quindi io penso che nell'organigramma ci sta bene questa società, considerando pure gli sforzi che sta facendo per allestire una squadra che possa primeggiare in promozione e conservare un certo tipo di stabilità e l'intera cambiare l'eccellenza. Si aspettiamo un giro di eccellenza diciamo di medio livello perché chiaramente stiamo parlando di nove ripescaggi con il Colleferro che era l'ultima squadra, la nona di quello ripescaggio, addirittura Formia era fuori classifica e quindi sicuramente c'è una situazione finanziaria delle squadre che mi sembra a dir poco drammatica. Io questo l'ho detto, la situazione finanziaria preoccupa tutte le sportive e il problema è che ci arriviamo in un momento che gli sponsor non è che hanno tutte queste risorse finanziarie per darti una mano quindi quando facciamo le scelte dobbiamo fare, e lo ribadisco, in funzione di un budget che ci siamo prefissati sapendo che a un certo punto se devi allargare la borsetta perché vale la salvezza o la vale un campionato di vertice bisogna farlo, questo lo vedremo stata facendo, ci sarà il mercato di riparazione oppure di miglioramento della squadra. Io credo che tutte le società stanno vivendo un momento particolare dal punto di vista finanziario, cercano di coinvolgere i calciatori che se la sentono di affrontare determinate situazioni, il fatto che possa essere un campionato di medio livello ho forti dubbi, io credo che alla fine poi le squadre si attrezzano tutti quanti, specialmente quelle del nord della provincia o verso la capitale che hanno una capacità di attingere sul mercato di Roma calciatori di un certo tipo di livello. Un'ultima domanda, che cosa la squadra chiaramente a linea di massimo è completata e quindi già hai detto che si aspetterà le prossime settimane per capire il tecnico se ho visto un paio di giocatori in prova, quindi immagino che questi giocatori verranno verificati dal tecnico e da voi come staff per capire se potranno essere utili, quindi nel complesso diciamo il mercato è chiuso, no? Beh, diciamo che oggi stiamo con una passione con 25-26 calciatori, quindi credo che alla fine quelli che stanno in prova dovranno dimostrare di essere migliori o darci quell'apporto in più che noi ci aspettiamo per migliorare la squadra. Quindi il discorso, io ho detto al DS Fiore che noi dobbiamo partire al completo, perché non si può, no? Durante la fase di azione immettere, 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 quindi per me avere un obiettivo principale che è quello di avere 25 calciatori a disposizione in modo tale che bisogna fare una provazione tutti insieme per capire qual è il livello della squadra e questo l'ha avuto fortemente Giorgio Minieri e credo che noi abbiamo un attimino rispettato quelle che sono le indicazioni tecniche senza inventarci niente, perché nel calcio ci si inventa poco, se un calciatore è bravo, è bravo, prima o dopo emergerà, l'abbiamo visto l'anno scorso, no? All'inizio poi si è ripreso, qualche calciatore che era partito a Benezza ha avuto qualche difficoltà durante il campionato, quindi sta nel gioco dalle parti, io credo che chi ha scelto Idri l'ha scelta perché era convinta di fare un campionato non tranquillo, un campionato di un certo livello e poter migliorarsi tecnicamente e poter dimostrare di valere questa categoria. Concludiamo veramente adesso, a livello dei pubblici ci aspettiamo sicuramente una stagione importante, visto che c'è stato Ritoni in eccellenza, ma io mi permetto anche di dire che ci sono un paio di squadre che sono sparite, Gaeta, che potrebbe essere assorbita dalla mista della città di Gaeta, ma c'è il Fondi Calcio che è sparito, quindi il tifoso che vorrà vedere una partita si dovrà dividere fra Idri e Terracini, quindi mi aspetterebbe anche qualche pubblico in più qui a Idri. Io credo che Fondi guarderà questa squadra con attenzione, anche perché visto il DS, visto l'allenatore, ma visto anche i nostri rapporti di vicinato con Fondi che non sono stati mai bellicosi dal punto di vista sportivo, io credo che il tifoso vorrà vedere Giorgio Minieri all'opera per sperare di poterlo vedere in futuro su una panchina del ruolo che Fondi merita, perché io ho sempre ammirato le scelte, partendo da quello che faceva Gemino Lippa all'inizio dei tempi, abbiamo sempre ammirato un percorso in crescita e in crescita e in crescita e ha avuto pure il fioffio della loro di Fondi, Sergio Lippa, Calciatori, insomma diciamo che tutti i personaggi che io ho potuto toccare con mano e vivere insieme a loro alcuni momenti e mi dispiace che Fondi non possa esprimere quel campionato di serie D o di serie C che secondo me la città merita. Le difficoltà si sono, mi auguro che il pubblico di Fondi, il tifoso di Fondi, ci voglia dare credito e aiutarci in questo percorso di questo campionato. La parola adesso appunto all'allenatore dell'Aitri Calci, Giorgio Minieri, una domanda te la devo fare. Durante quest'estate, la prima domanda che è solo dal discorso preparazione, hai avuto quest'estate dopo la vittoria del campionato con tattiche potevi andare via da Itro oppure non ti è mai ballenato per la testa? No, qualche chiacchierata c'è stata, fa anche piacere perché quando ti accostano magari anche a squadre di categorie superiori fa piacere vuol dire che quello che hai fatto nell'annata precedente non è passato sicuramente inosservato ma non ho mai avuto il pensiero di lasciare l'Itri in una maniera più assoluta. È un ambiente che mi permetterà sicuramente di crescere, società seria, sana. Quindi per un allenatore che cerca di fare questo nella vita è un ambiente così e oro. Sicuramente non c'è stata nessuna volontà di cambiare i piazzi? Assolutamente no. C'è stata la volontà di ripartire subito, il prima possibile. Un po' di pausa l'hai avuta, quindi si è ripartiti, una squadra completamente rivisitata, soddisfatti di quelle che saranno fatte dal Digital DS? Su due indicazioni giustamente? Sì, 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 senza ombra di dubbio. Un lavoro fatto con tempo a disposizione. Siamo andati a cercare i profili giusti per la categoria diversa da quella dell'anno scorso. Credo che ci siamo riusciti in pieno. Chi è rimasto del gruppo storico è conscio insomma delle difficoltà del campionato, del lavoro che andremo a fare. I nuovi credo che si stiano integrando veramente bene, lavorano tutti nel migliore dei modi. Sono estremamente contento proprio per questo perché non c'è nessuno che si risparmia, anzi tutti vogliono già da adesso superare l'ostacolo e quindi questo per me è importante. Ti è dispiaciuta la partenza di quel gruppo importante di giocatori dell'anno scorso oppure te l'aspettavi? No, è normale che mi è dispiaciuto anche perché abbiamo condiviso veramente un grande risultato insieme. si è creato anche un certo tipo di legame. Quindi è normale che sono rimasto dispiaciuto ma è normale anche che nel calcio vengano fatte delle scelte o da una parte o dall'altra. In questo caso diciamo che le scelte degli altri sono state legate a motivazioni personali, le abbiamo accettate e quindi di conseguenza abbiamo cercato insieme alla società di allestire una rosa per questo tipo di categoria. Devo dire la verità sono estremamente contento per il lavoro svolto appunto dalla società e per quello che mi è stato messo nelle mani per poter lavorare. Sono curioso infatti di alcuni giocatori che conoscevo dall'anno scorso tipo Iguaddu e l'altro che stava a Gaeta, Otero. Sicuramente insomma è un campionale che forse loro possono esprimere al meglio le loro qualità chiaramente anche se comunque c'è sempre da tenere conto che gli avversari non ti fanno giocare. No, sicuramente la differenza tra la promozione e l'eccellenza esiste perché altrimenti non ci sarebbe la differenza anche con gli altri campionati. Sicuramente è un campionato diverso, più tecnico, con campi sicuramente migliori in confronto a qualche campo dell'annata precedente, si giocherà di più al calcio, ci saranno anche molti giovani interessanti magari soprattutto nella zona di Roma per il bacino d'Utenza insomma un pochettino più preparato degli altri e due ignesti sicuramente che faranno comodo al nostro gruppo, al nostro scopo di arrivare alla salvezza il primo possibile per raggiungere il nostro obiettivo e poi di toglierci qualche soddisfazione. Ma come loro sono arrivati altri giocatori importanti, ne abbiamo un paio in prova, quindi diciamo che la società non esclude ulteriori movimenti nel mercato. Quindi questa è la testimonianza che ci stiamo muovendo bene e stiamo cercando di fare le cose migliori per mantenere e per confermare l'eccellenza qui a Itri. Sicuramente il mercato, tra l'altro poi prendendo l'esame che già ho parlato con DG, via Mastroian arriva Matteo Cancubasso che mi sembra alla pari come stazza, no? Sì, per quanto riguarda la stazza sicuramente, probabilmente Matteo ha dal canto suo qualche esperienza in più in campionati maggiori e in campionati più importanti, sicuramente anche unità diversa, quindi speriamo che ci porti quell'esperienza che ha maturato sui campi, come lui, come Stefanini, come i Spagnoli, come altri giocatori che sono arrivati e ci devono dare una grande mano, compreso Nando Verrecchia, da cui ci si aspetta veramente tanto perché è un giocatore che nel momento in cui entrare in condizione è un giocatore che ci può fare la differenza, ma non soltanto i grandi, perché poi abbiamo Bagnara che è arrivato a 97 eccezionale, come Lubrano che è stato confermato, come tanti giovani nuovi che quest'anno sono venuti e ci daranno, sono convinto di grandissima qualità e ci potranno dare sicuramente una grande mano. Sicuramente, ti vedo appunto molto convinto quest'anno, ti potrai divertire forse più dell'anno scorso, visto che il livello tecnico dovrebbe alzarsi in eccellenza, no? In teoria sì, in teoria sì, poi questo lo vedremo giornata dopo giornata, aspettiamo insomma i gironi, spero che il Formia venga ripescato perché un derby come quello tra i tre Formia secondo me non può avere in meno in un campionato come quello di eccellenza, quindi mi auguro con tutto il cuore che venga ripescato anche il Formia, in modo tale che si possa elevare ancora di più l'interesse per questo campionato. Poi ritornando al discorso un attimo prima dei giovani, mi sono dimenticato di dire anche che c'è un Frola, un 2000 in porta veramente molto interessante, quindi la concorrenza, quest'anno la società è stata brava a creare concorrenza praticamente in ogni ruolo del campo e questa per me è una cosa molto molto importante. Hai sicuramente alternative per ogni ruolo della tua squadra, quindi sicuramente ti potrai sbizzarrire quando avrai difficoltà a gestire, ma avendo doppi campi sicuramente starà meglio quest'anno, no? Sì, potremmo gestire tanto le risorse perché ne abbiamo tante, è un campionato dove i giovani sono veramente importanti perché fanno in qualche modo la differenza, spesso e volentieri un negativo in positivo. Io credo che quest'anno la società, in particolare il DS Gaetano, Fiore e Peppino De Santis, il direttore generale, sono stati bravi veramente ad andare a prendere quei giovani che a livello qualitativo veramente secondo me sono in grado di farci fare il salto di qualità. Parliamo un attimo, se ti ricordi, delle amichevole programmate, credo che comunque anche questo si debba fare, mi sembra di ricordare che c'era abbastanza da giocare. Sì, abbiamo organizzato con altre società delle amichevole, abbiamo programmato insieme anche al preparatore atletico perché diciamo che devono essere quel qualcosa in più che ci permette di entrare in condizioni il prima possibile, abbiamo diverse dal Monte San Biagio all'Ermada, all'Anitrella, poi per chiudere avremo anche, se non ricordo male, la Mistral di Gaeta e avremo il Casalvieri con cui c'è un gemellaggio a livello di tifoseria, quindi abbiamo in programma cinque amichevoli, se non sbaglio, tutte che ci serviranno per mettere i minuti nelle gambe e per portarci alla prima giornata di campionato in una condizione ottimale. Hai menzionato la tifosa griglia, quest'anno sarà, immagino, una tifosina di grandi occasioni e addirittura io prospetto l'avvicinamento di qualche tifoso della tua zona, quindi essendo la squadra a fondi sparita potrebbe essere che qualcuno verrà qui a vedere la partita non avendo nessuna squadra a fondi. Ma io lo spero, innanzitutto mi dispiace per il fondi perché una città come quella di fondi, rimanere senza calcio a distanza di anni sicuramente non è una cosa piacevole, però immagino che ci siano state delle motivazioni importanti per far sì che questo capitasse. Sì, spero insomma che quest'anno, ne sono sicuro per quanto riguarda la tifoseria perché ci sono sempre stati vicino, anche oggi più di qualcuno è stato al campo, come è stato al campo i primi giorni. Spero che il discorso che qualche società importante, se volete meno da queste parti, possa rendere il nostro campo un pochettino più importante per quanto riguarda la domenica nelle partite in casa. Sicuramente giocare con un pubblico importante fa piacere, gratifica perché significa che il lavoro che stai facendo è importante e soprattutto è da incoraggiamento.